ciao buongiorno a tutti sono manuele sulla spiaggia sulla spiaggia di bellaria questa domenica mattina con gloria e ludovico siamo venuti a farvi vedere come stiamo come sta la spiaggia di bellaria dopo il grande lavoro che hanno fatto i manini in questi giorni vi accompagniamo vi accompagniamo in una pedalata lungo tutto il paese così vi rendete conto della differenza tra qui e quello che è successo nell'entroterra dove i ragazzi stanno ancora lavorando per ripristinare una situazione normale no 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 Grazie a tutti. 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 E qui siamo nel centro di Bellaria, proprio davanti alla chiesa. Qui finisce il nostro giro. Vi auguriamo buone vacanze al mare a Bellaria. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.